Stiamo hablando o continuiamo a parlare della soledà, della soledà bonita, elegida, la oscura e tutto questo. Ora dici, bueno, che vamos a fare con ella? Come vamos a risolvere? Come vamos a generare e avvenire questa soledà burda, negativa e vamos a disfrutare della positiva, della elegida? Quindi tutto dipende della tua percezione. Sì il cammino, trasformate, cambia il futuro, Panacea. Sono il Diyopo Mantra di Panacea. Questa percezione è come la soledà, per te è positiva o per te è negativa? La altra cosa è che è subietiva, quindi. E anche dipende di come la ved da un punto di vista, se è temporale, ok? E se è superabile o se è insuperabile e permanente. Ok? Quindi se tu dici, wow, quindi che vuoi fare? No, se io tengo la percezione che sto solo e che non lo potrei superare e che tutta la vita va a stare così, chiaramente, automaticamente, comincia a stare male e continua a stare male. Sì? Quindi, qui noi necessitiamo di cominciare a tenere un'attitudine ganadora. e questo non solo per la soledà o per la soledà, per sopravvivire, per stare bene nella vita. Tu sei un ganatore, non un perdedore, ok? Però questo qui è tutta la parte della idea. Quindi, quando noi tommo la firme determinazione e la alimentiamo con un esforzo consciente, definitivamente, vamos a creare un cambio profondo e permanente, va bene? Claro, la vita è impermanente. Uno dice, ah, crea un cambio, però poi me morì dopo. Però il punto non è questo. Il punto è che io voglio creare un cambio in me. Ora, la pregunta del milione è, estás listo a cambiare? La prima cosa che ti va a dar cuenta è che tu non chiedi cambiare. Sì? Nel momento che già ti dà scuenta che non chiedi cambiare, puoi dimmiare il processo di cambio. Però, normalmente, a noi, a noi, a noi, a noi, a stare nella zona di conforto. Significa, dove non mi devo sforzare, dove non mi devo preoccupare, dove non devo rettarmi? Perché? Perché mi gusta stare in lo mio. Ora, se sto solo, per venire questa soledà, devo salire a fuori, devo fare cose. E se io voglio vivere nella mia zona di conforto, in mio sofà, mirando il mio televisor, questo non va a passare. Quindi, la cosa di creare questo cambio, significa che devo cambiare qualcosa di quello che sto facendo. Ora, un qualche campesino sape che se sembra papa, sì? Non va a cosechar zanahoria, cosecha papa. Quindi, tu che stai facendo? Che tu stai facendo la mia accione e ti spera che qualcosa passi. Non va a passare nulla. Ti va a quedar sempre solo e vai a sofrir con questa soledà, sì? Quindi, la prima cosa che devi entendere è che tu vas a cambiare, non che gli altri te vanno a cambiare per satisfacere, come dicere, perché gli altri non mi vanno a buscare a me. La gente sta molto occupata con lo suo, la gente ti viene a buscare. Quindi, tu che devi muovere per andare a creare questo cambio, sì? Quindi, una delle cose è che il ragione, gli altri, non sta sotto il controllo. Tu stai sotto il controllo. Quindi, quando ti torni responsabile, ti torni consciente che le cose stanno in una forma, può essere non illimitata, può essere sotto il controllo, quindi tu decidi che vuoi fare, va bene? Perché? Perché, altra volta, toman il primo passo, il primo passo del secondo, l'impulso per il secondo passo, eccetera, eccetera. Ora, una delle cose è che il corpo è sconnetato alla mente, ok? Quindi, che facciamo? Necessitiamo utilizzare questa sabiduria. Allora, a mi, a veces m'来 ho univo e univo che mi sento deprimito. Ok, quindi, come è questa persona deprimita normalmente? Non so se tu hai visto o ti ha lavorato. Las cuorsi sotto, la cara sotto, e los oci mirando hacia debba, sì, tutto con la cara così, quindi il corpo sta. Ok, quindi io la prima cosa dico, mi può essere作li un favore? E? S cigarro, miConf보? a essere un favore? Dice ok, puoi mirare se arriva? La persona dice arriva? Sì, sì, mira già arriva nel teccio. Solamente la mirata se arriva già è un messaggio alla mente che dici una persona che mira arriva non è negativa, è positiva. Dispo dico a regla poni lo scodo così. La persona dice questo, ora mi puoi fare il favore di farmi una sorrisi. La persona dice, sorrisi? Qui è questo tipo? Dico, esforzo di un momento, mi sono una sorrisi, le dico una broma o qualcosa, e poi il tipo dice, come ti sientes? Mi sento meglio? Claro, che stava passando, che solamente il messaggio del corpo, sì, sta dicendo alla mente non può essere, non può essere deprimito. se io arrivo a casa e dico, ah, sto morto, e mi tiro nel sofà, come sto morto, mi ha detto, la mente sta dicendo al corpo, stai morto. Quindi il corpo definitivamente se cae, come dire, che non sia per nulla. Ok, dico, mi sento un pochino cansato, mi sto parlando in una maniera differente, quindi questa è la maniera di come io devo reaccionar, sì? Quindi, che passa qui? Che quando noi diciamo che io voglio stare soli, sì, e che voglio... nel momento che io mi faccio a muovere il corpo, faccio cose, automaticamente la mente anche la mente reacciona. Quindi dici, mi sento solo, però empiezo a actuar e faccio cose. Quindi, uno è, lo equilibriamo a través del esercizio psicofisico del Atta Yoga, che io ti lo puse nel blog, e empeziamo a, come si chiama, a aiutare la gente che soffre, perché è altra cosa. Dici, ah, sto molto triste. Vete da una fundazione qualchiera in tua città e va a fare qualcosa. Vete a parlare con un vecchio, in un ancianato, vete a un hogar di nini, vete a una perrera, vete da alcuna parte a fare qualcosa. E tu veras che tutta questa soledà che tu hai, che ti sta matando, che ti sta facendo stare male, definitivamente se va, perché nel momento che ti va a dar cuenta della necessità del mondo, dei altri, tu veras che le storie non sono tan male, sì? E, ademais, va a essere qualcosa utile, perché questo ti va a llenare il tempo. E ti va a essere nuovi amici, ti va a conoscere persone, e questo ti va a fare reaccionar. Va bene? Ok, quindi, altra cosa che poi già abbiamo detto, mantenere la tua mente occupata con le pratiche spirituale. Va bene? Ok, vamos a mirare una maniera la più sencilla, la più che può essere qualche persona. Va bene? Non pensare, poi. Un concepto importante è il concepto di mio mondo e il mondo. Ora, se io ti pregunto, dove sta? Qual è tuo mondo? Quindi, normalmente la gente mi dice, no, mio mondo è mia parella, miei figli. No. Mi mondo, tuo mondo è tu. Significa, in mio caso, questo suétero qui non è il mio mondo, è il mondo. Il mondo termina in mia pelle. È dove termina il mio mondo. Quindi, il corpo, la mente e il ser. Però sta tutto in me. Tutto lo che ho in cima non è il mio mondo, è il mondo. Ok? Quindi, che passa? Che molte volte la gente, perché sufre? Perché? Perché si sta concentrando demasiado in il mondo e sta pensando che è il suo mondo. Questo non significa che ti sto dicendo di essere egoista. No. Absolutamente. Si? Te sto dicendo solamente che se tu non ti cuida a nivel fisico, mental e che ti alle e le faranno. Che cosa si tu puoi e lo seguire con i alti? Come tu puoi aiutare a i alti se tu non sei? Se tu stai deprimito, se tu ti senti solo, se tu ti senti enfermo, come puoi aiutar a i alti? Tu ti serve aiutare a te. Si? Ento di essere qual è il tuo mondo, non nemmeno con il mondo. Il tuo mondo interno è questa artista interna che stiamo dicendo. Si? Ok. La La altra cosa è che della soledà, nessuno ti può dire come tu la vas a experimentare, come tu la vas a vivere. Perché? Perché se tu la vuoi vivere come la parte tóxica, è anche la tua vita, è la tua decisione. Però c'è la maniera di questa soledà tóxica, perché tu ti puoi dire destruire la soledà tóxica, destruire. Ci sono persone che stanno male, però male, e si accogono. Quindi, lo che stiamo dicendo in un video era il fatto che questo va a afectare il tuo sistema inmunologico, ti va a sacare la esperanza del sistema inmunologico, è una reazione a cadena e che ti va a dare varie situazioni. Quindi si è enfermato, però perché si è enfermato? Perché non hai esperanza. La esperanza di vita è, al contrario, la felicità di vivere. E' una cosa meravigliosa. Va bene. Ora, questa soledà, immaginate che ne siquera Dio è stato solo. Per questo è un crollo dell'universo. Se tu lo pensi e dici, no, Dio è stato solo. Il Dio, tal vez, della religione, che è già da alcuna parte, però Dio è tutto questo. Tu e io siamo essi, siamo essi di Dio, siamo in Dio. Quindi, lui, perché aveva di creare tutta questa creazione, perché è stato solito, dice, no, no, un momento. Devo creare un dolore di cabeza creando tutto questo tipo di mondo. Sì? Ok. Quindi, tu puoi essere... Stanno i due extremi. Uno dice, me aizio e l'altro, me faccio questo. Questo non va bene. Ok. Quindi, che passa? Che tu puoi essere introvertito e poi che viene visto come una persona introvertita come un pochino raro. Ad esempio, io sono una persona introvertita, però in questo momento sto extrovertito. Quando io faccio una conferenza, sto extrovertito. Quando io sto con la gente in un ritiro, sto extrovertito. Però, anche, posso essere introvertito. Ora, introvertito o extrovertito, va bene, non è il punto. È che cada uno di noi necessitano un descanso dei altri da volta. Perché, se no, come io posso scrivere questo articolo? Come posso preparare le conferenze? Lo posso fare per la calla? No. Lo devo fare sentato, solo, concentrato, e pensare come lo faccio. Lo devo fare, sì? E questo me lo da questo tipo di soledà. Va bene. Quindi, non so se a ti 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 ha passato, a mi mi ha passato viajare per mesi. Mi ha detto, quando io ero in Italia nel 1986, in molte parti, io ho viajato in molte paesi, quindi, a volte è come il descanso. Io voglio tornare a casa. La casa non necessariamente è in Italia. È dove ho i miei cose, i miei libri, sì? Quindi, uno dice, viajo per due mesi, però dopo un tempo, dici, ah, che ricco conoscere. Quando puoi viajare molto, ti va a dar conto che non è così ricco. Tu dici, voglio un luogo dove puoi stare tranquillo, sì? Non tutto il tempo in un aeroporto, per una casa, con l'hospetto di gente, in un hotel, dove sia, facendo negozio, facendo lo che sia. No. Di volta devi, devi, devi regressare a te stesso. Questo regressare a te stesso sta dentro di te. Questo è un esempio, sì? Quindi, più di la metà dei esseri umani vivono in le città ora. Ok? Quindi, già siamo tutti insieme. Però per questo ti dico, apprende questo tipo di soledà elegida, e, anche estando in una città, lo puoi desfruttare. Perché? Perché più ti senti pleno e felice, e più adquiere sabidurà. Quando tu hai questa sabidurà, già tu sai come affrontare la vita, già tu sai come funziona tutto questo, e non ti vas a preoccupare per cosita chiquita e soffrire. Tu già non vuoi soffrire. Una delle cose che io voglio fare con questo video, con questa pagina web, con tutto questo. Quiero evitarti di soffrire. Perché non è necessario soffrire. Io ho soffrire e lo ho superato. Aprendi come non soffrire, e quindi te lo posso insegnare con facilità. Perché già lo sento. Perché già non sto soffrendo. Perché sto in contatto con molta gente, quando la gente viene e mi conta, dada, sto soffrendo per questo. Dico, no, hazi questo, 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 verà. Ai, parecchia così facile. E' facile. E' facile. E' facile. E' facile, mettere tantissime cose nelle corrette, che ora stai soffrendo, e non è necessario. Quindi, ti lascerò, con molto gusto e molto amore, a non soffrire, e a descobrir il infinito, che sta già in te. Aprende más, per tuo benesterno, en Panassia.com Siuai come dada, il infinito, stia in te. Descubrelo.